Ciao a tutti, sono Valentina Peschiulli e frequento la classe quinta D del liceo scientifico Giulio Cesare Vanini di Casarano. Il libro che ho scelto di recensire è l'algoritmo e l'oracolo del fisico Alessandro Vespignani. Credo che sia un libro molto attuale e interessante da leggere nel periodo che purtroppo stiamo vivendo, in quanto gli argomenti trattati, ossia le possibilità offerte grazie allo studio di statistiche e all'uso di algoritmi, sono vissuti oggigiorno quotidianamente da tutti noi. Il libro parla di come gli strumenti forniti dalla tecnologia moderna possano essere d'aiuto alla ricerca, alla previsione di alcuni fenomeni, si accenna per esempio all'epidemia di Ebola che ha colpito duramente la Guinea nel 2014, pur non trascurando però l'aspetto della privacy individuale che viene sempre di più a mancare. In un periodo come questo i numeri sono stati motivo di sconforto tra la popolazione, ma sicuramente sono stati anche strumenti utili per chi di competenza. Si tratta di una lettura che consiglierei personalmente, in quanto il contenuto è espresso in modo semplice, chiaro e comprensibile, anche ai non addetti ai lavori, e fornisce informazioni interessanti circa un mondo che non tutti conosciamo ma che è veramente pieno di fascino.